Buonasera e ben trovati a un nuovo appuntamento. La notizia principale di oggi riguarda la mossa di Putin sul gas russo che ha imposto che il pagamento venga fatto in rubli, pena lo stop alle forniture. Tutto ciò mentre dall'Ucraina non arrivano significativi passi avanti nelle trattative. Oltre a ciò i mercati europei e statunitensi devono fare i conti con il dato sull'inflazione a marzo, in particolare nel nostro paese sale del 6 e 7 per cento, dato più alto dal 91. In questo scenario le borse europee perdono terreno e il Futsimib non fa eccezione. Per buona parte di seduta il nostro indice non si era discostato più di tanto dalla parità fino alla notizia di cui parlavamo poco fa, che ha incentivato le vendite. Fortunatamente riesce comunque a mantenersi per tutta la fase di contrattazione sopra ai 25.000. Anche il DAX chiude oltre il punto percentuale di passivo scendendo sotto quota 14.500 proprio nelle ultime ore. Negativamente ma in misura nettamente minore anche Wall Street. Sia il Nasdaq che il Dow Jones stanno infatti contenendo i cali entro il mezzo punto. Fanalino di coda del Futsimib e Telecom che registra un tonfo del meno 7 per cento dopo la notizia di stampa l'OPA da parte di KKR sembra meno probabile. Pioggia di vendite su Iveco che supera i 5 punti e mezzo di flessione e Nexi sotto al meno 4. Alcuni bancari come Biper, Banco BPM a ridosso del meno 3 per cento. In grande spolvero generali più 3 e 23 per cento sui massimi da ottobre 2008 grazie all'apprezzamento di Del Vecchio, adi di Luxottica, al piano industriale della società assicurativa. In questo modo Del Vecchio potrebbe salire alle soglie del 10 per cento, attualmente detiene l'8 per cento circa. Tale notizia fa avanzare anche Mediobanca, primo azionista di Generali che si avvicina al più 1, a differenza di altri bancari che abbiamo citato tra i peggiori. Acquiste sulle utilities legate al petrolio come Terna, miglior titolo a più 3,34 per cento, Saipen poco sotto al più 3, Snam che si aggiudica un punto e mezzo. Torna negativa la moneta unica nei confronti delle altre principali divise, euro-dollaro a tratti era sceso sotto quota 1,11 anche se ora è ritornato su quei livelli. Il cross euro-sterlina invece sta perdendo oltre mezzo punto percentuale con un trend chiaramente ribassista. Ancora più pesante è la flessione sull'euro-yen, vicinissimo almeno 1%. Grazie per la visione, come sempre ricordo che per rimanere informati e consultare tutti i nostri contenuti potete iscrivervi al canale YouTube di Traderlink oppure su Traderlink web e sulla nostra app. Grazie e buona serata!